Il filtro carburante su Volkswagen Passat B6 Legga la descrizione per accedere al link del nostro negozio online per poter comprare i pezzi di ricambio. Aprire il cofano. Utilizzate un cacciavite a stella N grado T20. Allentare i bulloni di fissaggio del coperchio del filtro. Utilizzate un vaso di viso. Utilizzate un cut expo della banca. Utilizzate un po' diaccia di stanza di ricambio. Svitala il tappo del filtro carburante. Rimuovere il filtro del carburante. Rimuovere il filtro del carburante. Rimuovi il vecchio anello di tenuta. Installare i nuovi anelli di tenuta dell'elemento filtrante. Installare il nuovo filtro del carburante. Nota bene è importante non confondere mai i lati del filtro. Le frecce presenti sul filtro indicano la direzione del flusso di carburante. Installare e serrare la calotta dell'alloggiamento filtro carburante. Utilizzate un cacciavite a stella N grado T20. Utilizzate il filtro del filtro carburante. Utilizzate un cacciavite a stella N grado T20. No! Grazie a tutti.